sempre più famiglie stanno presentando centinaia di richieste di usufruire della didattica a distanza i dati di presenza degli studenti nell'istituto gatto sono attualmente al di sotto del 50 per cento di presenza che si dovrebbe avere come disposto dall'ultimo dpcm lavorare in questo contesto di paura e preoccupazione costante non fa bene né ai docenti né agli studenti così la dirigente scolastica dell'istituto gatto anna vassallo a margine della riunione che si è tenuta ieri presso l'aula consigliare il problema reale è questo che attualmente da quando è scoppiato il caso diciamo così di conseguenza c'è stato anche un grande allarmismo e abbiamo dovuto affrontare a scuola la paura e le ansie e le preoccupazioni dei genitori e degli studenti per cui da ieri praticamente ci sono pervenute centinaia di richieste di fruire di didattica a distanza esclusiva quindi evitare la presenza in aula e molte di queste richieste sono state corredate di certificazione attestante la fragilità o degli stessi studenti oppure di persone conviventi e allo stato attuale ci sono ancora altre centinaia di richieste da valutare per cui i dati di presenza degli studenti ieri erano il 23 per cento rispetto al totale previsto e oggi invece addirittura il 13 per cento quindi stiamo parlando di percentuali che sono molto lontane dal 50 per cento previste dal dpcm di gennaio 2021 e molto lontane da quello che prescrive il ministero e l'ufficio scolastico regionale per la campagna paradossalmente ci troviamo a lavorare con classi dove sono presenti uno due al massimo tre studenti e 20 25 studenti che sono in collegamento online e questo è davvero assurdo lavorare in questo contesto in cui c'è tanta tanta paura un clima di preoccupazione costante non fa bene né ai docenti né agli studenti voglio dire una cosa fondamentale il processo di apprendimento è da considerare complesso e delicato e ha bisogno per essere efficace di una condizione di benessere fisico e mentale e da parte dei docenti e da parte degli studenti in questo momento la scuola da questo punto di vista è fragile perché i ragazzi non vivono la scuola in una situazione di benessere psicofisico proprio per le ansie e le preoccupazioni di questo momento particolare paradossalmente siamo stati molto meglio quando abbiamo ripreso le attività didattiche a settembre perché le classi sono entrate quasi tutte per intero i ragazzi erano seduti al banco non indossando la mascherina perché bastava il distanziamento sociale di un metro tra le rime buccali quindi lavoravano in un contesto molto più diciamo sereno rispetto a quello attuale oggi ci troviamo invece a lavorare in una condizione in cui la curva epidemiologica è sicuramente salita rispetto a settembre e con classi dimezzati al 50 per cento addirittura oggi con pochissimi studenti e con studenti che devono indossare la mascherina per 5-6 ore consecutive quindi in una dimensione veramente che io vedo triste se posso usare questo questo aggettivo